Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, è un piacere vedervi e salutarvi e scusarmi innanzitutto per il ritardo. Pietro mi ha accompagnato nella mostra che parte tra l'altro con quella bellissima immagine, con quella bellissima scritta di Saramago che la fine di un viaggio non è che l'inizio di un nuovo viaggio. È lo spirito di tutte le grandi e piccole e medie aziende del nostro Paese. Sono quelle aziende che al termine di un percorso lungo tanti anni hanno però la voglia, il gusto, il desiderio di guardare all'orizzonte, al domani. È quello che ha fatto grande l'Italia, perché l'Italia non l'hanno fatta grande i politici o gli amministratori. L'hanno fatta grande le donne e gli uomini che, partendo da niente, da piccoli luoghi spesso della provincia, della provincia italiana così bella e così ricca di valori, prima ancora che di aspetti economici, hanno saputo costruire delle piccole e grandi storie di successo, che poi vanno nel mondo. Perché questo continuo racconto negativo sul fatto che l'Italia non ce la faccia, non riesca ad essere competitiva nel mondo, è smentita da chi? Non dai politici una volta di più, ma dalle donne e gli uomini dell'impresa, dalle donne e gli uomini dell'ingegneria, dagli operai, dai lavoratori, dagli architetti, dagli ingegneri. Ecco, i 110 anni di questa storia sono 110 anni che rendono orgoglioso sicuramente Pietro Salini, la sua famiglia, i suoi collaboratori, ma tutte le grandi sigle, le grandi aziende, le grandi storie che negli ultimi anni si sono messe assieme alla Salini e hanno creato Salini in pregilo, con l'ultima acquisizione americana di Lane particolarmente importante, prima l'operazione in pregilo, prima ancora la Todini, una storia che nel viaggio della mostra della Triennale è raccontata molto bene. Allora io cerco di essere breve e di dire quello che penso in modo molto sintetico. Primo punto, evviva le aziende che rischiano, evviva chi ci mette del suo, evviva chi non si accontenta di continuare semplicemente a guardare al passato. Le mostre servono a questo, le mostre servono esattamente a questo, non a ricordarci chi siamo stati, che è sempre bello, perché la nostalgia è affascinante, ma servono innanzitutto a gettare nuove occasioni per il futuro. Parliamoci chiaro, amici, non sempre è così. La politica italiana, e talvolta anche parte dell'impresa italiana, in questi anni non ha avuto spesso la forza di progettare l'orizzonte e il futuro. Si è molto fermata, si è molto rannicchiata, comprensibilmente, perché i problemi ci sono, ci sono stati, e continueranno sicuramente a farci compagnia ai noi. Però quello che più è mancato alla politica è la dimensione, è la dimensione del futuro. È come se all'improvviso l'Italia, che nei cinquant'anni del dopoguerra aveva fatto risultati straordinari, si fosse un po' rannicchiata, avesse smesso di crederci, si fosse guardata a casa propria, chiudendosi a chiave nella preoccupazione e nella paura di non immaginare più il futuro. Io lo vedo parlando con le persone. La cosa banale che mi dicono è che quando ero giovane non avevo preoccupazioni perché comunque sapevo che il futuro sarebbe stato più rosio, sarebbe stato migliore. Oggi la preoccupazione dei nonni, della generazione degli anziani, della generazione dei nostri genitori è quella di chi dice che non ho problemi per me, io in qualche modo me la capo, ma sono preoccupato per i figli. E allora il recupero della dimensione del sogno è molto legata all'ingegneria, è roba da ingegneri, da architetti, la progettazione, il rimettere avanti. Ci direbbero quelli che sanno il latino che viene da un'espressione bella, dal gettare in avanti, dal rimettere in avanti. Manca la progettazione del futuro, noi possiamo farla. Naturalmente tutti i costruttori che sono qui dicono sì, pochi discorsi, parliamo di numeri, le costruzioni sono in crisi, 927 mila posti di lavoro persi durante la crisi di cui oltre mezzo milione perso per responsabilità dell'edilizia, o meglio, per responsabilità delle condizioni dell'edilizia. Noi abbiamo perso durante la crisi quasi un milione di posti di lavoro, più della metà sull'edilizia. Come si fa a ripartire? Intanto si riparte dalle piccole realtà di tutti i giorni, non c'è ombra di dubbio, dai piccoli lavori di tutti i giorni. Io, per esempio, domani sarò con i vertici di Ferrovia dello Stato alla presentazione dei progetti, in particolar modo sulle realtà locali, non soltanto sui grandi progetti di sviluppo del Paese, ma anche sulle realtà locali. Non è immaginabile che ci siano meravigliose frecce rosse e poi contemporaneamente i nostri pendolari viaggino in condizioni difficili. Quindi il lavoro quotidiano, il lavoro che possiamo mandare avanti costantemente nella vita di tutti i giorni con i nostri comuni che devono tornare a progettare. Abbiamo detto, stasera faremo Consiglio dei Ministri, che tutto ciò che va in edilizia scolastica sarà fuori dal patto di stabilità. Noi veniamo da sette anni con tre terremoti. È del tutto ovvio che non possiamo dire alle famiglie che soffrono la preoccupazione del giorno dopo giorno che non possiamo fare l'intervento sulla scuola perché mancano i soldi europei. La stabilità dei nostri figli vale almeno, io dico, di più della stabilità delle burocrazie europee. Dunque i sindaci devono tornare a progettare perché tutto ciò che servirà per la manutenzione e l'adeguamento sismico sarà nuovamente liberato dal patto di stabilità e saranno confermati gli incentivi per coloro i quali vorranno fare ristrutturazioni anche nei condomini, il bonus al 65%. Ma detto tutto questo, non basta. Detto tutto questo che è giusto, che va fatto, che finalmente viene fatto in modo strutturato e strutturale, non basta. Ecco la dimensione del sogno e dell'orizzonte. Io l'ho vista, caro Pietro, negli occhi dei vostri collaboratori. L'ho vista quando sono stato con te, anzi no, te non c'eri a Riad. Era l'altra che non c'eri, ma una volta sono andato senza di te, quindi sono stato autorizzato da Salini, con salvacondotto personale, a visitare un cantiere senza di lui. L'ho vista negli occhi dei ragazzi della diga in Etiopia, la Ghibe 3, se non sbaglio, che peraltro sta nella mostra, per chi avrà modo di verificarlo e di vederlo. È anche una bellissima installazione, anzi complimenti alla Triennale che, come sempre, fa un grande lavoro e ha unito la bellezza estetica di questo luogo con la bellezza dei valori e della storia. L'ho vista un po' ovunque dove siamo andati insieme, dove abbiamo portato, io mi sono sentito orgoglioso. Adesso ti chiedo e vi chiedo di fare due cose essenzialmente. La prima, avere il coraggio di essere sempre più forti a livello internazionale. Questo è un paese che può portare il Made in Italy non soltanto nella straordinaria forza dell'artigianato, della moda, del fashion, ma anche dell'ingegneria. Io sono rimasto sconvolto quando Jeff Immelt DGI mi ha detto, la cosa di cui sono veramente orgoglioso della tua città, io ho pensato, penserà al calcio? Vedo Diego. Penserà al vino? Penserà alla cultura? No, la cosa di cui sono orgoglioso della tua città sono gli ingegneri. E allora noi abbiamo bisogno del Made in Italy dell'ingegneria, dell'architettura. Ragazzi e ragazzi che lavorate con Salini 110, che ho visto ragazzi che sono a fare i progetti di stage e i progetti di valorizzazione di cui Salini mi ha raccontato. Credeteci, l'ingegneria italiana non ha uguali al mondo. Dobbiamo tornare ad avere questa forza anche nel racconto. Non è possibile che uno accenda la televisione e trovi sempre e soltanto gli elementi critici. Quindi continuate a andare forti all'estero con le operazioni che avete fatto e con la convinzione che se si spinge un po' finalmente anche qualcuno che da questo orecchio non ci sente comprenderà la rilevanza degli investimenti per tornare a una crescita che oggi è insoddisfacente. In altri termini, per non girare troppo a vuoto, l'Europa deve ripartire dagli investimenti. Se un Paese, un a caso, ha 89 miliardi di surplus commerciale, quel Paese non sta facendo solo male a se stesso, sta facendo male all'Europa. Bisogna tornare ad avere una dimensione in cui gli investimenti sono la priorità. E voi, anche con l'acquisizione americana, state dando un segnale di grandissima forza. Dall'altro l'Italia. E finisco. L'Italia ha avuto in questi ultimi anni una grande discussione, per me sacrosante e doverosa, su tutto il tema delle riforme. Non parto dalla riforma costituzionale, anzi non ne parlo proprio. Ma non parlo nemmeno della riforma del mercato del lavoro. Perché abbiamo fatto una cosa banale, semplice. Abbiamo fatto le stesse regole che ci sono in Germania o altrove. L'unico problema è che le abbiamo fatte 15 anni dopo. Se le avessimo fatte 15 anni prima saremmo stati meglio. Quando lo dico, a casa mia dici se mia nonna aveva le ruote avrebbe fatto il carretto. Non è ormai inutile piangere sul latte versato. È andata. Non vi parlo però nemmeno delle riforme della pubblica amministrazione o della giustizia civile. Tutte questioni che sono l'ABC. Sono il nostro dovere. È inutile che uno si vanti di riforme che sono l'ABC. Sono più orgoglioso delle riforme che abbiamo fatto sul sociale. Oggi sono stato in un ospedale, a San Raffaele. Andrò in un privato sociale a Verona, in una realtà per anziani. E quando trovi le persone che vivono il dolore e la sofferenza, ti rendi conto che la legge sul dopo di noi, la legge sull'autismo, la legge sul terzo settore, questo elenco di provvedimenti, questi sono veramente le riforme di cui essere orgogliosi in un Paese che fa della comunità il proprio valore aggiunto. Ma quello che chiedo a voi e sul quale vi sfido è che noi abbiamo dato un messaggio ai nostri. Finita la parte delle riforme, si può tornare a progettare il futuro, a lanciare in avanti. Per farlo c'è bisogno di che cosa? C'è bisogno, uno, di amministrazioni locali che tornino a mettere i propri uffici tecnici in condizioni di funzionare e di fare progetti dalle scuole alle strade ai marciapiedi. Ed è un primo film. Due, c'è bisogno di un lavoro di burocrazia semplificato per permettere ai cantieri che sono pronti a partire di essere finalmente sbloccati. Mi riferisco ai piccoli e medi cantieri. Tre, c'è bisogno di una gigantesca operazione di infrastrutturazione della banda larga, perché la rete di domani non sarà più soltanto la diga, che è bellissima, è il numero uno al mondo per cui guai a chi mette in discussione le dighe, ma non sarà la diga in Italia. La rete di domani non sarà più nemmeno l'autostrada del sole, l'abbiamo già fatta, l'hanno già fatta, è una storia meravigliosa, è viva, bravi. La rete di domani per l'Italia è la banda larga. Gigabit Society, noi dobbiamo portare la velocità della fibra a livelli che siano competitivi a livello mondiale. Quattro, concludiamo la grande infrastrutturazione di grandi opere. Oggi tu sei a Milano, da Milano arrivi tranquillamente a Napoli in treno. Abbiamo sbloccato la Napoli-Bari, ed è un fatto importante. Non basterà, perché da Bari dovremo andare a Lecce. Quindi una filiera è quella la Napoli-Bari-Lecce. L'altra, caro Pietro, è una sfida a voi, che è quella di completare il grande progetto di quella che Del Rio chiama la Napoli-Palermo per non chiamare ponte sullo stretto, ma che è di fatto il collegamento tra Napoli e Palermo in un'operazione che porti non soltanto posti di lavoro, come è sacrosanto, 100 mila posti di lavoro, ma che sia utile. Perché tu devi fare una struttura che sia in condizioni di togliere la calabria, innanzitutto dall'isolamento nella quale è, e poi che consenta di tornare anche ad avere una Sicilia più vicina e raggiungibile. Io su questo vi sfido, perché noi siamo pronti, abbiamo dimostrato che a noi poche cose fanno paura. Per cui, se voi siete nelle condizioni di portare le carte e di sistemare ciò che è fermo da dieci anni, noi lo sblocchiamo. Ma questa sfida in positivo che voglio lanciare in modo provocatorio non è – e finisco davvero – una cosa legata dal resto. Si collega a tutto quello che in questi anni abbiamo cercato di terminare le opere degli altri. La variante di valico, l'acquadrilatero tra Perugia e tra Umbria e Marche, tutto il tema del terzo valico tra Liguria e Piemonte, la grande questione della Napoli-Bari strategica per il Sud, e naturalmente la Salerno-Reggio Calabria, che il 22 dicembre sarà percorribile senza più un cantiere. Già quest'estate era percorribile a quattro corsie, ma con un piccolo 800 metri di problemi che saranno risolti entro il 22 dicembre. Dunque, la mia è una sfida in positivo. Io apprezzo e rispetto chi dice che l'Italia è finita. Diciamo che rispetto più che apprezzo. Però penso che il compito di chi fa politica sia quello di indicare una visione e di chiedere di andare avanti. Oggi la politica mondiale è piena di persone mondiale, non locale. Di persone che dicono che non ci si fa, dobbiamo chiuderci in casa, dobbiamo avere paura. Di persone che dicono che stiamo attraversando il periodo peggiore della storia. Non è vero. Mai come oggi tante persone escono dalla povertà, mai come oggi tante opportunità sono date a nuove famiglie. Ma contemporaneamente dobbiamo avere consapevolezza che c'è un dolore profondo, una paura profonda. Questa paura di tanti dei nostri italiani, dei nostri connazionali, dei nostri concittadini deriva dal smarrimento del senso di comunità. Il piccolo mondo antico, chiesa, banca, parrocchia, associazionismo, che funzionava prima, mostra i suoi limiti. Noi dobbiamo recuperare questo senso di comunità e di orizzonte. E per farlo c'è bisogno di storie che siano capaci di celebrare un successo e di immaginare un futuro. Io ho visto gli occhi di Pietro Salini mentre mi raccontava i vari passaggi che si sono stati in questi anni e vedo tante delle persone che sono state prima concorrenti, poi alleati della Salini qui. È bello pensare che questi 110 anni celebrino la storia di chi, senza magari troppi ideali strategici, ma con grande concretezza ogni giorno si è messo in moto per fare dell'Italia un posto migliore. Io vorrei che noi avessimo la stessa forza, la stessa energia, lo stesso dinamismo che ha caratterizzato queste persone. Da chi è stato in grado di trovare una soluzione innovativa per il canale di Panama a chi è stato in grado semplicemente di mettere a posto le marciapiede sotto casa, ma che facendo questo lavoro ha portato con sé un po' di orgoglio tricolore. Vi rendo omaggio. Vi rendo omaggio non a livello personale, sarebbe insignificante e inutile. Vi rendo omaggio come Governo della Repubblica, come rappresentante protempore del Governo della Repubblica. Le storie di aziende che, credendo nel futuro, hanno costruito pezzi di questo Paese e non soltanto di questo Paese ci rendono orgogliosi, ma non basta. Bello ricordare il passato, ancora più bello costruire il futuro. Vi auguro di farlo con grande forza e con grande determinazione, vi auguro di farlo senza dimenticare chi non ce la fa e chi resta indietro, ma vi auguro di farlo smentendo chi dice che il tempo dell'Italia è soltanto il passato. Io sono profondamente convinto che, se ce la mettiamo tutta, il tempo dell'Italia è e sarà il futuro. Viva la Salini in pregilo, viva la triennale e naturalmente viva l'Italia.